segui la sette anche su instagram la 7 ovunque con te hanno ammazzati tantissimi mio amico olis busina è stato ammazzato esatto in faccia solo vicino a casa sua era un oppositore del regime nazista che è arrivato al potere nel 2014 lui non è in carcere lui in siberia lui non è stato minacciato lui è stato ucciso e mi dispiace era un mio amico era uno che arrivava come in italia ai festival come in emsof come come in italia come polizia come polizia io non faccio differenza tra i regimi nemmeno io faccio differenza nemmeno io faccio differenza però vorrei vedere il regime nazista siccome lei ha parlato di regime nazista e sa e questa è una come dire come accusa dovrebbe essere un po più circostanziata perché e questo significa delle cose molto precise io non dico che il regime di pubblico è un regime nazista è un regime noi abbiamo noi in italia abbiamo aspettato uno che ci sia un partito nazista al potere in ucraina forse lo saprà lei ma il partito ha cambiato nome si chiamava partito nazionalsocialista ucraino adesso si chiama partito straboda e noi abbiamo aspettato uno dei suoi uomini c'è al parlamento c'è un po di confusione però io non ho capito cosa stai dicendo scusami nicolai che in ucraina io stavo dicendo che ci sono delle france naziste o pensi che l'ucraina sia governata da un regime nazista e che zeleschi rappresenti forze del male queste sono due cose molto diverse zeleschi purtroppo non rappresenta niente perché come ti ho detto anche prima zeleschi è una persona è un è un elemento funzionale a vari poteri il sistema ucraino del 2014 c'è pieno zeppo cioè pensi che sia un fantoccio degli stati uniti per capirci nicolai dato ormai no 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 scusate certo ma questo è chiaro scusate perché questo è chiaro noi vediamo anche le difficoltà le difficoltà di questa guerra Mirta perdonami da una parte c'è un pazzo aggressore che cioè pazzo però nicolai non me l'avevi mai detta negli ultimi tre mesi che sia venuto da me questa cosa perciò mi sorprendo ecco francamente allora quale cosa scusa Mirta che pezzi che zeleschi ho fatto a ciò gli americani e che l'ucraina è sempre nazista mi ha sempre detto che esistono dei problemi cosa che non abbiamo mai negato come ben sai perché io non è che mi sono iscritta al partito ucraino ho solo notato da giornalista che l'ucraina è stata invasa e che qualunque cosa sia accaduta in ucraina ci sono molti altri modi prima dell'invasione abbiamo parlato Mirta che prima dell'invasione ci sono stati importanti movimenti come non ne abbiamo esattamente ma sono cose differenti però abbiamo negato abbiamo fatto finta di non vederle non abbiamo mai detto che però l'obiettivo di diversificare l'ucraina fosse un obiettivo sensato nessuno rappresenta se stesso un autoritario dittatore e dall'altra parte c'è un zeleschi che non rappresenta se stesso cerchiamo di rimettere un attimo le cose in fila mi faccio aiutare da Margelletti che di solito è un uomo molto ordinato nel ragionamento allora io sono sinceramente grazie